... ... ... ... ... ... Jenny dove sei? Sono qui, davanti alla cassaforte dammi il codice il codice? Allora S-A-S-I-Z-Z-A Ok Ok, perfetto Sembra che si sia aperta Ok, perfetto Ora, fai saltare la porta d'accesso Aspetta, sembra che si stia aprendo Funziona Ok, bene Ma, fai saltare la porta d'accesso Cazzo, quanti soldi Ho capito, si Ma, fai saltare la porta d'accesso Ma perchè devo farla saltare? Caccio in qua non l'agli è rimasto del cuore Ma, fai saltare la porta d'accesso Ma, fai saltare la porta d'accesso Ma, fai saltare la porta d'accesso